ciao ciao a tutti allora volevo dire che sto provando qualcosa di nuovo dal punto di vista della mia alimentazione perché come sapete io ho la tiroidite da shimoto e con il passare del tempo stava peggiorando e quindi ho deciso di fare una dieta perché praticamente quando mi alzavo la mattina non riuscivo più a camminare mi venivano i crampi mi veniva male le ossa e così via benissimo allora cosa è successo ho provato a fare una settimana cercando di eliminare il più possibile la carne e i dolci devo dire che sto un po meglio quindi sto quasi facendo una dieta vegana perché non è che mangio neanche più di tanto uova oppure formaggio e quindi le mie ossa stanno magicamente io non so se per questo motivo o per altri motivi cercherò di farvi sapere se ho scoperto veramente cosa mi fa male nello specifico fatemi sapere datemi delle informazioni e ci sentiamo tra poco vi aggiornerò grazie a tutti per avermi ascoltato un bacione da vale